Mi avete chiesto, Ale ma com'è sta pizza fatta dei robot? Ecco cosa ne penso, la qualità degli ingredienti è mediocre, il cornicione è basso e l'impasto non è a lunga lievitazione. Per me è come se fosse una pizza surgelata senza essere stata surgelata. Manda questo video a un tuo amico napoletano per far rivenire un po' di fame e fammi sapere nei commenti se tu la proveresti.